Una persona chiede il risarcimento del danno all'immagine per violazione della privacy ad un medico, dopo aver appreso, a seguito della richiesta di archiviazione di una querela, che quest'ultimo aveva trattato illegittimamente i suoi dati sensibili, chiedendone il TSO con certificato medico inviato ai carabinieri, anziché direttamente al sindaco, contenente notizie attinenti alla salute psicofisico della persona. Il medico si difende eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento. La Cassazione stabilisce in questa sentenza che se la notizia della violazione del diritto soggiace a segreto perché l'informazione contenuta nel fascicolo del PM, contenente atti di un'indagine penale, la prescrizione decorre dal giorno in cui il pretesto danneggiato ha avuto legalmente la possibilità di attivarsi per conoscere quei documenti, avendo ricevuto l'avviso della richiesta di archiviazione che segna la comunicazione dell'accessazione del regime di segreto. Quindi la conoscibilità soggettiva del danneggiato va ancorata a quel parametro obiettivo, non più alla mia esistenza empirica del fatto, assunto come causativo del danno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.